Fa paura il problema è che il diverso e così è sempre stato ultimamente considerato l'omosessuale come è stato considerato anche quello che si veste o si pettina in modo diverso da noi o il malato di mente per esempio, il diverso è l'altro, è l'alieno, è colui che ti mette in una condizione dove tu ti senti piccolo piccolo rispetto a lui, quindi non riesce ad affrontarlo perché non riesce a entrare nel suo modus vivendi, nella sua psiche, in quella che è la sua vita perché non accogli, non riesce ad accogliere, allora a quel punto tu hai paura, tu hai paura dell'altro tu hai paura del diverso, per esempio non so se hai visto o se i nostri ascoltatori hanno visto è un film recente che è Io l'altro con Raoul Bova e Giovanni Martorano, che è un film scritto da un tunisino dove si parla della diversità, dove si parla di Io l'altro perché dentro di noi in questo caso il diverso era un tunisino che apparentemente via radio Raoul Bova sente sono su una barca e sono due pescatori amicissimi che hanno lottato per riuscire a conquistarsi, a comprare questa barca, che giocano e scherzano insieme e poi l'unico strumento di comunicazione è la radio, lui sente per radio che stanno cercando un tunisino che è un terrorista, che potrebbe essere lui e quindi la situazione si capovolge, allora dall'amicizia diventa paura, poi diventa terrore e poi alla fine andate a vedere il fisico però in questo per dire che l'altro ce l'abbiamo dentro di noi e noi di quest'altro abbiamo paura perché è il diverso da noi, perché quello che noi non accettiamo, quella parte di noi che non accettiamo e molto spesso non accettiamo perché culturalmente non ci hanno insegnato ad accettarla però secondo me questo riguarda, giustamente il tuo punto di vista, proprio la fobia del singolo cioè la fobia dell'istituzione religiosa, secondo me è più legata a questioni di potere e di conservazione del potere, è un pochino a monte ma questo io l'avevo detto prima, quindi dal punto di vista culturale il discorso della chiesa è quello ovviamente, dal punto di vista poi del singolo è la paura, molto spesso cosa succede? certo, certo ci si integra in una comunità come può essere quella religiosa perché in quel modo si è protetti si perché quando la chiesa parla poi si è protetti dall'altro, da chi ti fa paura e quindi da quello che è diverso da te certo, ma questo è verissimo quando una chiesa parla di questione morale effettivamente, si riferisce tanto alla parte sessuale effettivamente perché io non ho mai visto la chiesa scagliarsi contro beh, uno dei dieci comandamenti è non fornicare sì, però e non c'è però in uno dei comandamenti è anche non rubare sì, ma è più semplice scagliarsi contro il sesso che ha fondamento comunque anche delle relazioni no, perché io non ho mai visto la chiesa alzare un solo dito o spendere una sola parola contro situazioni di gravi corruzioni, concussioni appunto, ti dicevo, è il peccato più semplice da imbrigliare c'è anche un uccidere una chiesa, però non ho mai visto la chiesa a parte in maniera marginale scagliarsi contro le guerre, contro alcune situazioni piuttosto, pure lo stesso paradosso di Enrico De Pedis che ha ammazzato più di 80 persone il boss della banda ramagliana, tra l'altro con Pippo Calotto tra l'altro la mafia siciliana che tra l'altro è stato proprio pensato è arrestato proprio nella via dove attualmente è la sede della radio incredibile, per l'85 e praticamente si parla, addirittura era custodito il suo feltro, la sua salma in una chiesa Santa Polinare, perciò, capite, questo è il discorso comunque, invece, dato che siamo quasi in chiusura io voglio chiedere invece a Carolina, adesso accandoniamo il discorso della chiesa perché qui purtroppo bisognerebbe fare fiumi di puntate perché, proprio, puntate a fiumi invece parliamo adesso, nuovamente, proprio del libro quali sono le cose, ci vuoi raccontare delle cose che ci sono rimaste più impresse perché giustamente tu hai messo tutto quanto, le cose più interessanti le hai messe nel libro però tra le cose interessanti che hai utilizzato per, tra l'altro mi, diciamo, mi incuriosisce anche la copertina del libro perché intanzitutto è stata fatta questa copertina, perché? non è stata scelta dalla casa editrice, in realtà, sono due gambe di una ragazza lievemente scoperte, con delle calzamaglie un po' scese e due scarpe da ginnastica senza lacci non ha un messaggio? no, però mi sembrava carino, quando me l'hanno mostrata sono stata molto contenta perché mi sembrava che un po' unisse da una parte un aspetto un po' sexy però dall'altra anche un aspetto scansonato, allegro queste scarpe da ginnastica aperte, insomma, che parlano di comodità, di tranquillità, di gioco ci rivedi in questa copertina? sì, anzi, molte persone credono che si tratti delle mie gambe invece, torniamo alla domanda di prima qual è la cosa, tra le varie cose interessanti che hai messo insieme poi per poter scrivere e poi pubblicare questo libro c'è una cosa che ti è rimasta proprio più impressa delle altre? nello scrivere? no, no, delle risposte dei tuoi, diciamo, dei tuoi interlocutori, ecco, sul blog ma guarda, sì, è uscito da un paio di mesi, iniziano ad arrivarmi delle email di persone che l'hanno letto finalmente e una delle ultime che veramente... a parte le email però, delle cose che hai pubblicato, dicevo non ho capito allora la domanda, perdonami tu diciamo, hai raccolto un po' quelle che sono le impressioni anche del blog in tutti questi quattro anni in cui hai gestito questo blog c'è qualcosa che ti ha colpito più delle altre? non ho capito se da parte dei lettori o tra le cose che... ah, e... tra le cose che ti hanno scritto, lettori beh, devo dire un po' di tutto è talmente vasta la materia che ho un po' di difficoltà a fare una selezione istantanea però mi colpisce molto, ecco, forse la cosa più importante è l'aver raccolto testimonianza di moltissime persone in Italia che la vivono come me e quindi la gioia di non aver inventato nulla e di aver riscontrato una sensibilità di questo genere in moltissimi uomini e donne per cui quando magari appunto sono invitata a qualche trasmissione o durante un'intervista mi si dice, soprattutto dopo il tour che dicevi in 30 città italiane parliamo di questo tour anche questo come ho visto quest'Italia cioè io mi arrabbio quando si parla dell'Italia bigotta perché ho scoperto, grazie a 4 anni di blog, grazie a tutti gli incontri di persone faccia a faccia che ho avuto da Milano a Napoli, in Sicilia, in Sardegna, ovunque veramente in Italia ho incontrato persone che hanno una capacità di vivere il sesso con la gioia e la naturalezza che merita ma tantissime che mi scrivono tutti i giorni i mail in cui magari mi dicono non brava mi hai insegnato qualcosa ma brava perché hai detto delle cose col tuo visino da ragazzina hai finalmente ridato una dignità che il sesso merita e che purtroppo fa fatica a trovare nei media e nella nostra società quindi questa è una cosa che mi è successa spesso che mi abbiano scritto questo cioè io mi sento pornoromantico non sapevo che esistesse né questo termine né questo blog e sono due giorni che lo leggo e che mi ritrovo in quello che scrivi questa è la cosa che ti ha colpito di più? guarda io poi in passato, negli ultimi anni no però in passato ho intervistato più volte ho detto Bras proprio per articoli insomma di carta stampata e in quello che diceva lui parlando del fatto della chiesa mortificava il sesso le sfaccettature diciamo dell'Italia provinciale poi adesso parlavi dell'Italia bigotta che poi tutto sommato hai scoperto un po' diversa da quello che pensavi io rivedo molto di quello che mi ha detto Bras nelle interviste in quello che tu stai dicendo e in quello che tu stai esprimendo oggi c'è qualcuno che ti ha accomunato un po' in qualche modo a Bras Mai? no neanche nel pensiero non è ancora successo no allora è la prima volta che sono lì in questo caso ho fatto una prima ho aperto una porta diciamo che era chiusa e a questo punto un'altra cosa che volevo chiederti invece tu Loredana? sì penso anch'io così che te l'ho detto prima che c'è una doppia facciata la gente in realtà non è bigotta in realtà nel privato nel pensiero si sta aprendo tantissimo però pubblicamente la consapevolezza e il parlarne il dichiararlo non c'è non c'è bisogno che uno parli del proprio privato però neanche che faccia finta di essere quello che non è sì ecco questo perché purtroppo quando si parla di erotismo anche sui giornali e le trasmissioni o viene presentato il lato oscuro il lato brutto il crimine oppure si mette in ridicolo non c'è una via di mezzo una sana e tranquilla via di mezzo e questo è il problema fondamentale però la gente è diversa non faccio la domanda poi a Irene perché già mi ha detto che l'erotismo è una cosa sana chiaramente se non si trascende chiaramente